Dispiace, dispiace perché i ragazzi ho fatto i complimenti per il semplice motivo che hanno dato tutto contro una squadra che sapevo che non ci avrebbe assolutamente regalato niente, anzi una squadra che ci ha messo in difficoltà al primo tempo perché abbiamo dovuto cambiare il secondo tempo perché loro riuscivano ad allungare questa linea difensiva e a trovare sempre gli inserimenti dei centrocampisti eravamo un po' in difficoltà, però che dire, poi alla fine ci siamo un po' disuniti la voglia di, forse se rimanevamo più ordinati, potevamo creare qualche cosa di più però le occasioni le abbiamo avute, abbiamo concesso qualche cosa, dispiace, dispiace però la consapevolezza che ho un gruppo che vuole lottare fino alla fine lo faremo Vista la sensazione è che il cambio di assetto abbia giovato ma la squadra si è stata anche più coraggiosa nell'ultima mezz'ora più che nella prima ora No, nella prima ora ci hanno messo un po' in difficoltà loro perché loro sono un po' calati verso la fine devo ripetere, mettere un giocatore davanti alla difesa, rimettere un centrocampo a tre sicuramente ha tolto quegli inserimenti perché al primo tempo sia Munari che Scavone ci infilavano alle spalle i due centrocampisti, noi nei centrocampisti centrali non abbiamo una grande velocità di scivolamento di consenza, eravamo un po' in difficoltà secondo tempo meglio, meglio perché siamo usciti anche come condizione fisica siamo stati presenti in campo, abbiamo provato in tutte le maniere con tre attaccanti però alla fine non siamo riusciti a far cosa Visti i risultati la situazione si è complicata o ha lo stesso livello di complicazione di prima? Beh no, indubbiamente si è un po' complicata perché manca solo una giornata però io ero convinto che potevano venire altri risultati di conseguenza noi adesso prepareremo questa partita all'ultima come se fosse con una piglia ancora per la salvezza perché visto che sono venuti fuori questi risultati ci aspettiamo di tutto è un campionato molto strano Però se non ti aiuti, Dio non ti aiuti Lo so, lo so, a noi più di questo penso che in questo momento la squadra ha cercato di fare abbiamo qualche piccolo problemino perché abbiamo qualche problemino in alcuni giocatori oggi c'era Amadio in campo con un problema al ginocchio c'era Barbuti, avete visto che anche lui ha giocato a 60 minuti ma aveva un problema abbiamo un pochettino qualche carenza sugli esterni perché per mancanza di Petrelli e di Spighi questo non significa trovare giustificazioni però poi dopo dobbiamo fare ricorsa ad alcuni ragazzi che indubbiamente il peso di questa partita lo possono anche sentire Commissario, ma come si fa a sbagliare un'occasione come quella di Sansovini soprattutto per un giocatore come Sansovini? No, vabbè, ma chi ha giocato a pallone sa perfettamente che quando arriva al 92esimo dopo aver corsa a destra e sinistra su questo campo può succedere mi sembra che ce l'avesse sul piede suo, diciamo sbagliato per modo di dire però loro hanno fallito anche loro delle occasioni, ci sta, ci sta molte volte in certe partite si vedono dei giocatori anche più blasonati che sbagliano, fanno degli errori madornali chi ha giocato a pallone sa perfettamente che al 92esimo tutto può succedere ci poteva regalare un'ulteriore speranza perché indubbiamente la partita era finita però pigliamo atto di questo risultato Il pericolo è di pensare già magari ai play-out quando però c'è una partita che può dire tanto anche in chiave play-out qualora si dovessero fare perché c'è una posizione di vantaggio da salvaguardare in quella ipotetica griglia Ma io personalmente non ci guardo, assolutamente io adesso guarderò i risultati, sappiamo che c'è ancora una partita ero convinto che poteva venire fuori un altro risultato molto dipendeva da noi perché io ho sempre detto dal primo momento che noi dovevamo cercare di fare due partite e sei punti io non mi guardo mai indietro perché se dovessi guardarmi indietro nelle ultime quattro partite abbiamo non oggi ma in altre situazioni buttato via forse il punto in una determinata partita, il punto in un'altra poteva essere molto utile in questo momento io sono quello dei piccoli passettini perché molte volte ho lottato per salvarmi alla fine il punto mi ha dato ragione evidentemente è una stagione che dovrà finire con un epilogo vediamo, siamo pronti, qualsiasi epilogo Con recriminazione per quanto riguarda le occasioni da gol creati penso che oggi abbiamo creato 6-7 palle gol contro un'occasione di Sansovini alla fine con soddisfazione dal fatto che venivamo da tre sconfitte consecutive quindi magari che abbiamo ripreso un po' il passo quello che ci ha determinato il cammino in questo periodo dove sono arrivato io è chiaro che dopo le tre sconfitte l'aspetto mentale e psicologico non è dei migliori e ripartire almeno sotto l'aspetto del risultato ripeto, ottenuto con un'ottima gara e con un gran numero di palle e gol create ci soddisfa e ci deve far affrontare la prossima settimana una partita importantissima come il Derno Un'astidenza da gol questa che vi sta condizionando non poco? Sì, però la problematica è più che altro quando non si hanno le occasioni da gol quando si è creato è chiaro che ci si può lavorare sull'aspetto del concretizzare e del migliorarsi soprattutto nella determinazione e nella cattiveria e il problema è magari quando non si creano queste situazioni da gol Mister, nel finale cosa è successo? Molta tensione su una situazione anche a palla lontana? Ma riferita a che cosa? Il giocatorio? C'è stata quella munizione a Munaria di Paolo Antonio? Era un giocatore Mazzocchi che era in campo con i crampi tanto è vero che dopo è uscito quindi a volte diciamo che il fine giustifica i mezzi posso capire che magari la volontà del terreno è quella che dovevano vincere la partita a tutti i costi però a tutto ciò lì, non parlo dei giocatori, parlo dopo quello che è successo dopo Giocarelli in panchina come mai? Perché durante la settimana abbiamo giocato lunedì sera ho fatto delle valutazioni dove ho pensato di mettere gli 11 migliori e non cambia il fatto che magari Lucarelli oggi sia stato in panchina per capire l'importanza del giocatore che è Il risultato giusto? Nell'ultima mezz'ora qualcosa avete rischiato? Ma il risultato giusto? Non credo proprio abbiamo rischiato anche di perdere perché se San Sanso Mini fa gol Hai terziato quindi nell'ultima mezz'ora voi? Sì ma ha anche detto il risultato giusto Io ho chiesto se per lei era il risultato giusto? Secondo me non, l'ho già detto prima abbiamo creato 6-7 palle gol contro un paio di situazioni per loro ma credo che nell'economia di tutta la partita sotto l'aspetto dell'occasione non ci sia stata partita ma anche sotto l'aspetto del gioco Hai detto quello che è successo dopo, cos'è successo dopo? Per me finisce qui, non è successo assolutamente niente mi dispiace che anche se avevo 41 anni penso che ci debba essere un rispetto dei ruoli e di tutto Grazie